In attesa di accelerare le somministrazioni giornaliere dei vaccini anticovid nella popolazione pugliese, la regione ha aggiornato tutte le informazioni sul calendario delle vaccinazioni con le fasce d'età maggiormente a rischio, tenendo conto delle categorie individuate dal Piano Nazionale Vaccini Anticovid. Come noto, sono già in corso le somministrazioni per personale sanitario, over 80, personale scolastico, forze armate dell'ordine e strutture penitenziarie da oggi ufficialmente. Partono le somministrazioni per gli over 80 anche a domicilio, operazione già partita nei giorni scorsi nella Aslobat e sempre da oggi saranno vaccinate anche le persone che prestano servizio in comunità sociosanitarie, civili e religiose. Dal 29 marzo partiranno invece le somministrazioni per i soggetti con elevata fragilità. Sono persone dai 16 anni in su individuate dal Piano Nazionale a causa di un danno d'organo preesistente, una malattia rara, immunocompromessi o con gravi disabilità. Le persone interessate dovranno attendere la chiamata del proprio medico di medicina generale o del centro specialistico di cura che hanno già compilato e consegnato l'elenco dei soggetti rientranti in questa categoria del Piano Vaccini. Dal 12 aprile prenderanno in via le vaccinazioni per i cittadini tra i 70 e i 79 anni, ovvero i nati tra il 51 e il 42. Le prenotazioni per questa categoria partiranno il 29 marzo. Le somministrazioni verranno effettuate negli ambulatori delle Aslo di riferimento. Dal 26 aprile sarà la volta delle persone di età compresa fra i 60 e i 69 anni e quindi nati tra il 61 e il 52, con prenotazioni al via dal 12 aprile. Le somministrazioni saranno sempre ambulatoriali. Infine, dal 3 maggio, toccherà ai cittadini pugliesi con meno di 60 anni e con patologie. Anche in questo caso, come per le persone con elevata fragilità, non ci sarà la prenotazione. I soggetti interessati saranno contattati dal proprio medico di medicina generale. Attualmente in Puglia sono state somministrate oltre 500.000 dosi, pare a circa l'86% dei vaccini attualmente disponibili, un dato che colloca la regione Puglia al quinto posto in Italia. Infine, le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose sono poco meno di 140.000 in totale.